Grazie Luca per questa inquadratura, questo inquadramento diciamo più focalizzato sull'architettura e anche credo per le suggestioni di strategie presenti e future. Anche noi lavoriamo spesso, abbiamo sempre lavorato con te e su questo abbiamo una conoscenza e una relazione diciamo così continua. Io lascerei adesso la parola a professore Alessandro Rovetta che è professore di storia della critica d'arte dell'Università Cattolica di Minano che concentra il suo intervento sull'apparato più decorativo che è contenuto in questo libro che oggi presentiamo. Grazie. Grazie, ringrazio per l'occasione e voglio innanzitutto allinearmi con quanto il soprintendente ha detto anche proprio per il valore diciamo tra virgolette civile di questa operazione che è un'operazione complessa nel senso che ha toccato tantissimi punti utili alla valorizzazione e alla conservazione del nostro patrimonio. Aggiungo un altro fattore virtuoso che non dico tutto iniziato, un punto d'avvio è stato il convegno che abbiamo ottenuto in Cattolica e Avrera sulle arti nel Ducato di Milano in età asburgica quindi dedicato al Settecento nel Ducato di Milano dove appunto i due autori hanno presentato agli esordi il problema di questa decorazione e c'erano le autorità locali quindi sorprendentemente al convegno sono stati coinvolti i diretti interessati di questa struttura e da qui è partito da quello che è nata la consapevolezza maggiore del valore di questo patrimonio e quindi poi a distanza sono stati più veloci degli atti del convegno e quindi è nata questa serie di iniziative quindi è proprio questa testimonianza di poter collaborare tra istituzioni tra istituzioni che governano il territorio chi ne deve curare il restauro, la conservazione e chi cerca di studiarlo, di approfondirne le questioni quindi davvero un percorso estremamente meritorio la seconda cosa che vorrei dire in premessa è che questa residenza come ha già anticipato il sovrintendente ha un valore esemplare cioè il suo merito non è tanto non è solo quello di conservare dei capolavori d'arte e d'architettura come dire ineguagliabili ma di avere delle testimonianze importanti di una e più stagioni di arte e di architettura ma anche di territorio che esemplificano quello che accade appunto come è stato già detto tutto il territorio varesino e non solo il territorio varesino quindi uno può partire dall'osservazione di questa villa per capire una serie di fenomeni di dinamismi, di carattere artistico, architettonico di carattere storico di rapporto tra centro e periferia che poi può estendere a tantissime altre occasioni e questo è molto secondo me molto importante perché dobbiamo anche non dico finire ma non relegare la valorizzazione dei beni culturali del nostro patrimonio solo ai grandi nomi ai grandi capolavori a ciò che lascia immediatamente a bocca aperta per estensione e per qualità occorre proprio ridare a questo patrimonio il valore di una testimonianza di una storia di una vita che parte dall'utilizzo delle terre e arriva al desiderio di vivere in un luogo bello dove ci sia un significato ci sia una rappresentatività di quello che sono gli ideali di chi ci abita espressi in forme di bellezza la terza premessa che volevo fare poi lo sviluppo non sarà lungo non è proporzionale le premesse la terza premessa su come è costruito il libro è la prima battuta che mi è venuta in mente quando ho avuto il libro la coppia Galli e Monferrine hanno colpito ancora perché questa collaborazione tra uno storico estremamente sperimentato accreditato e una storica dell'arte mi sembra una collaborazione proprio esemplare utilissima strategica come dire mi permette che va oltre la qualità indiscutibile dei due studiosi perché soprattutto quando si tratta di questi di questi monumenti così stratificati così complessi così poco noti la cantonata è dietro l'angolo c'è la possibilità di andare oltre quello ma non è solo un problema di evitare l'errore ma proprio di di provare a costruire queste strade parallele perché in fondo il libro racconta due storie parallele che hanno gli stessi protagonisti lo stesso luogo ma come dire il il materiale è da un lato i documenti l'edificio perché poi i documenti spesso sono aiutano molto di più sugli edifici che sulle le opere di carattere figurativo e poi invece c'è la storia raccontata dalle opere da quello che è rimasto a livello di affreschi e non solo di affreschi quindi ripercorriamo la storia di queste generazioni di questi passaggi di famiglia di questo luogo prima attraverso il saggio di Monferrini che le ricostruisce attraverso un percorso storico ineccepibile maneggia gli alberi genealogici con una capacità incredibile io ogni tanto mi perdevo tornavo indietro capire questo tettono dove l'abbiamo lasciato la pagina prima e invece tra l'altro il libro aiuta ci sono anche questo schema degli alberi genealogici che aiuta davvero davvero moltissimo e poi come dire lo sviluppo storico artistico questo è un metodo lo sviluppo storico secondo me è importantissimo anche perché gli storici spesso rimproverano gli storici dell'arte di essere un po' leggeri su come manovriamo e soprattutto interpretiamo i documenti e noi gli storici dell'arte tante volte poniamo domande agli storici alle quali non vogliono rispondere e invece qui c'è questa possibilità alla fine della lettura di tutto questo volume e soprattutto anche trascorrendo l'apparato iconografico che è molto bello molto completo molto dettagliato si ha un'idea precisa di quello che è accaduto in questo monumento la cerniera sono i due inventari questo inventario del 1751 quello del 1886 se non ricordo se non sbaglio la data che sono un po' gli elementi che fanno parlare un po' più che fanno dialogare un po' più direttamente quello che è la storia con il patrimonio storico artistico in alcuni casi molto molto utili anche per sapere quello che c'era e che oggi per diversi motivi non c'è più e anche per poter registrare le personalità che hanno effettivamente determinato la qualità di questo luogo quindi mi è stata riservata la parte decorativa quindi chiaro mi dedico in particolare all'assaggio di Anna Elena Galli che è un saggio costruito devo dire con molta intelligenza perché non è solo la ricostruzione cronologica cronologica di quello che è accaduto a livello decorativo nel palazzo così come anche il saggio di Monferrini non è solo come dire l'arida ricostruzione di tutti i proprietari dei loro rapporti ma c'è sempre il tentativo di guardare oltre azzate anche oltre Varese quindi di ricostruire di rintracciare questo rapporto tra un luogo che si definisce così di default di periferia e i centri anche perché il libro mette molto bene evidenza che i centri sono più di uno perché è Varese è Milano ed è Novara quindi è anche un luogo che intercetta il rapporto tra due centri come Novara e Milano che hanno sempre avuto una storia particolare molto interessante molto importante che va che appunto diciamo cancella i confini amministrativi attuali e ricostruisce quella che è una storia che ha un come dire ha un fondamento anche ecclesiale un fondamento borromaico perché i due autori hanno anche un illustre passato borromaico e che continua evidentemente si irradia a diversi a diversi a diversi livelli dicevo oltre a questa capacità di guardare di guardare oltre penso appunto al rapporto con la famiglia Arconati con Pertusati la Cenno Pozzo Bonelli poi in fondo anche questa villa mi ha abbastanza sorpreso non è nel repertorio di Marco Antonio dal re però è citata da Coronelli quindi ha una citazione importante in un testo in un'opera di respiro ancora più ampio rispetto a quelle che erano le finalità particolari delle vile di delizia di dal re dicevo l'altro elemento interessante di questo saggio è che appunto ricostruisce la cronologia quindi segue un filo cronologico con filo storico dei diversi interventi ma lo fa individuando alcune dinamiche particolari che appunto rendono come dicevo prima questo edificio particolarmente esemplare o rappoggiandosi a quello che c'è o rappoggiandosi a quello che la ricostruzione storica del collega studioso Monferrini ha recuperato dalle fonti documentarie quindi appunto c'è un primo accenno all'esterno perché dell'esterno oggi si vede l'equazione esterna si vede davvero molto poco però in questo caso anche i documenti e l'inventario soprattutto quello del 51 aiutano aiutano a ricostruire a rintracciare alcune testimonianze e da subito già da questo questa testimonianza che c'è e non c'è è più nelle carte che sui muri della della residenza vengono fuori i due protagonisti Gerolamo Terzo Trettoni la moglie Elena Bagliotti perché il tema della fecondità della generazione questo è un tema a mio avviso molto interessante molto molto centrale al di là del con dire della solo della sottolineatura semplice del fatto amoroso ma è chiaro che per una dinastia per una pretesa di dinastia la generazione è un fattore assolutamente determinante tra l'altro andando a quello che è rimasto come la decorazione con Egina rapita da Giove l'indicazione di un tema poco inconsueto cioè non è una cosa che si ritrova in tutte le residenze in tutte le decorazioni quindi l'identificazione anche di una committenza colta in qualche modo che non non si affide ai repertori diciamo d'uso comune ma cerca qualcosa di di più preciso di più peculiare rispetto all'obiettivo preposto con anche un'attribuzione donato a Mazzolino di questa venere che è rimasta sull'esterno e chiaro che il tema dell'esterno andava assolutamente affrontato per quello che diceva anche il sovrintendente prima che è delineato bene nel saggio di Monferrini che queste residenze sono dentro e sono fuori cioè c'è questo rapporto con l'esterno che è fondamentale non avrebbe alcun senso una residenza di questo tipo a scrigno chiusa a contenere all'interno tutto quello che vuole dire il passaggio successivo è quello delle quadrature dei soffitti ligni che qui vengono citati in particolare gli studi di Simonetta Coppa quindi l'individuazione di queste botteghe che questi soffitti sembrano proprio un mass dell'ambiente varesino con diversi interventi e la villa ne propone un campionario davvero molto interessante fatti questi due accenni come dire particolari alla decorazione esterna ai soffitti per leggere quello che resta dell'apparato decorativo del piano inferiore soprattutto del piano superiore della villa Anna Elena Galli usa un osservatorio particolare ma molto importante cioè la derivazione dalle stampe perché che siano che siano gli affreschi di carattere ruinistico romano che siano quelli della Gerusalemme liberata che siano altri soggetti presenti perché la villa presenta un campionario davvero interessante di questo tipo di decorazione c'è sempre il riferimento semplice se vince un riferimento costante alle stampe che al tempo diffondevano questi soggetti soggetti che gli incisori traevano dai pittori più più importanti più importanti del tempo e questa è storia del gusto è storia della diffusione di questi di questi elementi ed è importantissimo capire appunto come si diceva anche prima rispetto alla possibile ricostruzione della destinazione ed uso dei singoli ambienti anche capire appunto di fronte a questi repertori che erano molto vasti molto ampi il committente o l'artista probabilmente entrambi assieme rispetto alla struttura architettonica dello spazio rispetto alla sua funzione rispetto a quello che la famiglia vuole raccontare di sé dire di sé in quel luogo decide un soggetto piuttosto che un altro con una grande varietà diversificazione rispetto ad altri ad altri esempi perché dove alcuni soggetti in una villa sono nel sovrapporto in altri invece sono nei fregi che corrono sotto i soffitti in altri invece sono isolati isolati a parete ma questo questo taglio è molto è molto interessante per cui si passa dalle allegorie dell'aria della terra derivate dalle stampe di Dorigny a loro volta ricavate da dipinti invenzioni di V.E. e qui c'è un bel affondo perché ricorda gli studi di Marina dell'Omo che stanno cercando di ricostruire questa il ruolo della diffusione delle invenzioni voetiane attraverso le incisioni nel Piemonte soprattutto nel Piemonte evidentemente è un fenomeno che si estende che si estende un po' su tutto il territorio ricordo il recupero dei dipinti di V.E. fatto da Simonetta Coppa in Valtellina quindi è un è un pittore che nel suo passaggio tra Roma e Francia ha determinato un gusto è stato estremamente studiato e utilizzato così per E.B. e Cedere da Bianche del Sole soggetti di Storer per i medaglioni con le divinità Nathan da Golzius quindi anche repertori che retrocedono nel tempo arrivano al Cinquecento dove io mi trovo un po' più a mio agio perché i miei studi si chiudono con la peste manzoniana al massimo arrivano alla morte di Federico Borromeo ma oramai mi sento sempre più risucchiato trascinato sul secondo 6 e il Settecento perché obiettivamente c'è una possibilità di studio di scoperte e di valorizzazione davvero molto molto importante così come le bellissime vedute di Roma qui dico bellissime perché il mio classicismo viene catturato da queste immagini non solo vedute della città ma anche vedute del litorale laziale quindi qui c'è sempre questo aspetto del centro della periferia del luogo storico importante e di quello che è attorno e che è attorno sempre confini commerciali perché poi il litorale erano porti quindi erano motivi di commercio e quant'altro sull'onda diciamo di questo di questo lavoro molto interessante che ripeto molto interessante perché aiutano a a non chiudersi in una microstoria leggendo questo libro e quindi guardando questo questo palazzo ma ad avere uno sguardo uno sguardo aperto che appunto i due studiosi legano come prossimità immediata alla villa della Porta Bozzolo di Casal Zuvigno con delle precisazioni come è stato già detto prima molto 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 importanti perché le date sono importanti sono un allievo di di una di Mirella Ferrari che è una paleografa di chiara fama che chiedeva sempre le date non c'era esame che non iniziasse con le date quindi come dire le precisazioni cronologiche aiutano molto perché ricostruiscono il senso della storia e ricostruiscono anche il senso delle delle carriere ovviamente che qui appoggiandosi a studi con quelli di Bassani e Cassani che sono già stati citati prima che hanno già cercato di precisare in questo affondo sui rapporti tra Azzate e Casalzuigno le due ville tettoni e della porta il un tema molto importante interessante è l'aggancio con le maestranze perché da qui arriva l'aggancio all'intervento di Giovanni Battista Ronchelli esteso a Casalzuigno e qui riconosciuto nella 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 villa nella villa tettoni perché è molto interessante perché aiuta a capire o a entrare nel merito di come avvenivano queste campagne decorative attraverso il recupero di questa figura di Antonio Maria Porrani che è concittadino di Castello Cabialio da cui arrivano anche i Ronchelli e come si imparentano tutti i proprietari della villa si imparentano anche i decoratori e le maestranze per cui tra Porrani e Ronchelli c'è anche un legame di parentela io dico che tutte le volte che gli studi ci aiutano a ricostruire una vita attorno alle cose che ci piacciono come le opere d'arte è una grande cosa non è solo uno sfoggio da eruditi o come dire la ricostruzione di musei virtuali è proprio ricomprendere come ciò che giustamente ci appaiono delle eccezionalità dei capolavori delle opere d'arte importanti hanno alle spalle una vita che lavoro che rapporti familiari che e qui arrivo al punto che mi è piaciuto molto anche perché è di grande attualità che si è Ronchelli e si è Porrani avevano fatto tra virgolette la loro fortuna avevano costruito una buona porzione della loro carriera nella ricostruzione di zone terremotate all'Aquila e a Sulmona quindi in due centri segnati da terremoti disastrosi come quelli che hanno toccato le stesse zone in tempi a noi vicinissimi e come dire hanno esibito messo a frutto anche la loro capacità imprenditoriale la loro capacità costruttiva per ricostruire queste queste zone e i rapporti nascono anche in questo luogo addirittura la zona è anche occasione per aggiornamenti romani perché ovviamente l'Aquila è vicino è vicino Roma e i due attori fanno capire come comunque questo ha avuto certi aggiornamenti certi certe flessioni di gusto o certi repertori possono dipendere dalla vicinanza a Roma e quindi nei lunghi soggiorni fatti in terra abruzzese ci sia stata la possibilità di passaggi romani per poter avere questi aggiornamenti in quel centro che era ancora un centro importantissimo di cultura di cultura artistica quindi come dire questo episodio di Ronchelli ad Azzata alle spalle questa storia interessantissima che va dai rapporti con la vicina Casalzuigno ma arriva è come preistoria diciamo preistoria molto molto vicina a questi a questi legami con il centro Italia il tema della decorazione di Ronchelli ad Azzata è un tema molto interessante perché è cavato dalla Gerusalemme liberata quindi vuol dire un recupero di tasso in pieno 700 che non è una novità è un dato acquisito però che soprattutto nel milanese in Lombardia sta raccogliendo molte testimonianze ne cita una Anna Elena Galli che è quella di Cavagna degli intagli di Cavagna per Palazzo Clerici a Milano che qui vuol dire è interessante perché i clerici a queste date sono la famiglia più emergente forse più potente più potenti più ricche a Milano in quel momento quindi la fortuna della Gerusalemme liberata come tema iconografico che va dal Boudoir di Palazzo Clerici fino agli affreschi di Azzate c'è anche il tema della minaccia o della rivincita contro i turchi c'è il tema di Eugenio di Savoia quindi ci sono tanti temi che si possono si possono si può fare una lezione su 700 andando a fare una visita guidata alla Villa Tettoni di Azzate i temi sono Rinaldo e Armida Rinaldo che abbandona Armida poi invece riguardano Tancredi e Erminia e Vafrino che trovano Tancredi ferito e poi Tancredi che battezza Clorinda e da storica dell'arte poi ovviamente cerca i punti di riferimento con le imprese più vicine dal punto di vista stilistico l'individua correttamente con appunto l'impresa di Casalzuigno e poi con anche la via Crucis di Mergozzo vado rapidamente verso la chiusura ecco quindi questa stagione di pieno 700 una stagione importantissima di grande di grande rilievo che ben testimoniate come il libro dimostra non fatto altro che raccogliere un po' le fila da quello che i due autori ci dicono dimostra ampiamente la decorazione ottocentesca rischia di passare un po' in secondo piano quella legata a Giovanni Castellani Tettoni Fantoni man mano che si avanti nella lettura i cognomi si sommano e diventa sempre più più complesso da da quello che si comprende per quello che è rimasto e da quello che viene viene detto c'è un come dire un desiderio di conservazione quindi un senso di consapevolezza di quello che era stato realizzato in precedenza e anche di continuazione cioè di tenere un po' le fila di quello che era stato come dire realizzato in modo alto nel nel settecento in pieno settecento anche questo è una cosa importante perché bisogna stare attenti ad accusare di ritardo certe manifestazioni perché a volte c'è proprio la volontà di mantenersi in linea con ciò che prevale come gusto nell'opera chiude un cammeo che è quello della collezione Carutti già Benizi Castellani che è un appunto è un uno sguardo veloce significativo su quanto è rimasto di questa dei dipinti mobili di questa di questa tradizione di questa tradizione familiare con delle opere importanti che tra l'altro ci accompagnano nell'assaggiare l'attività di conoscitore di Giovanni Testori perché alcune attribuzioni a Giuseppe Maria Crespi e a Maratti sono di Giovanni Testori più o meno appoggiate anche dal suo maestro Roberto Roberto Longhi e devo dire comunque la degna chiusura di questa di questo di questo libro è il bel ritratto a me sembra un bel ritratto quello di Gerolamo Terzo Tettori mi sembra in cerca d'autore in cerca d'autore ma molto bello soprattutto anche nell'abbigliamento con questo risvolto questa manica risvolta questa cosa preziosissima che ci dice si vivevano vivevano proprio bene si potevano permettere si potevano permettere permettere tanto ma anche questo che è il gusto di un grande di un committente di un grande committente ebbene ognuno è grande rispetto al luogo in cui si trova alla carica che ha questi sono quasi tutti decurioni siamo quasi tutti famiglie di giure e consulti soprattutto che agivano in particolare a Novara però appunto un gusto che va dall'affresco fino al risvolto prezioso della manica grazie 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 grazie